Gli obesi sono quasi 6 milioni e sovrappeso sono più di 20 milioni, quindi possiamo dire che complessivamente in Italia quasi una persona su due ha problemi di peso. Il problema di questa malattia è che non è riconosciuta come tale, viene vissuta come un problema estetico. È importante quindi che l'obesità, il paziente obeso venga prima sottoposto a diagnosi medica. In dieci anni, fra il 2000 e il 2010, il numero di persone obese è aumentato di un milione. È un problema che comporta una spesa enorme per il sistema sanitario nazionale perché se non fossero obesi o sovrappeso avrebbero meno possibilità di ammalarsi di tutta un'altra serie di patologie come l'ipertensione che porta ad aterosclerosi, che porta a infarto del miocardio, a ictus. Si sente da sempre la forte esigenza di una terapia farmacologica di cui purtroppo l'obesità oggi è stata essenzialmente orfana. Quindi è incredibile come la malattia che peraltro fa avvenire altre malattie più importanti del nostro secolo, diciamo così, non abbia avuto fino ad oggi un farmaco realmente efficace e sicuro per il trattamento di questa condizione. È chiaro che se si interviene presto lo stile di vita può essere modificato facilmente. Quando si arriva tardi, quando l'obesità è già grave, allora è molto più difficile che la dieta e l'esercizio fisico possano risolvere il problema. Adesso abbiamo questa grande novità di questo farmaco che è uscito in commercio, il Saxenda, che ci permette un nuovo farmaco, un meccanismo di azione diverso rispetto a tutti quelli che ci sono stati fino ad adesso, che permette al paziente obeso di avere una maggiore facilità all'osservare la dieta ipocalorica e l'esercizio fisico. Questo è un farmaco nuovo, sicuramente per certi versi rivoluzionario, perché agisce in modo specifico, quindi si lega ad un recettore che è a livello del nostro cervello e una volta che avviene questa interazione si stimola la sazietà e si inibisce l'appetito. Senz'altro questo Saxenda ci dà una grossa opportunità per dare una mano al paziente obeso a ottenere risultati e durature nel tempo. L'individuo di fatto ingerisce meno calorie e questa volta lo fa non forzandosi dietro una dieta che a volte diventa difficile seguire, ma lo fa perché il farmaco gli dà quella maggiore sazietà che consente di seguire una dietoterapia in modo efficace.